Dico viva la vita! Non mollate mai! Vi emozionate tantissimo! Non mollate mai! Mai col tuo dito! Siamo morti! E grazie, grazie! Vi voglio un bene dell'anima! Mamma mia quanto bene mi avete dato in questo anno! Grazie! Amiamo la vita, rispettiamola! È preziosa! Tanto! Stringi la pote, non farla andare via! Anche se non sarò mia! È un mio amante vicina! Ho avuto un cattro, in questi due mesi mi sono curata, ho fatto chemioterapia e radioterapia dopo un'operazione. Perché le meravigliose medici mi hanno operata, ma hanno tolto il 100% di questo caso. Ho fatto una radio e una chemioterapia preveduta. Quindi adesso ve ne posso parlare perché facendo le corna, credo si possono fare a questo, in più le corna, possono farle. Qualche ne vuoi? Tutto finito, c'è una data molto importante per me che è il 6 febbraio, 5 giorni fa, tutto finito. La radio e la chemio. Quella là! Ciao! Eccoci qua! Io vorrei dire alle prossime persone, non mollate mai che non siete soli! Non siete soli! E che le iene portano bene, speriamo! E che le iene portano bene, speriamo!